Io mi rifaccio sempre a un a qualche gancio di cronaca dei giorni. Allora nei giorni scorsi l'ex PM del pool milanese di Mani Pulite per Camillo Davigo quando ha sentito si parlava di morte di persone in carcere ha detto è per noi magistrati è un problema perdiamo una fonte. Che ne pensa? Eh l'hai già fatta la domanda abbiamo già risposto ci vuole i test psicoattitudinali di fronte a un cinismo barbarico violento e sanguinario.